Buongiorno a tutti, sono Andrea Ocone, responsabile marketing di prodotto della società LEDVANCE e vi do il benvenuto a questo webinar che vi terrà occupati per 15-20 minuti sulle nuove tecnologie della smart lighting di LEDVANCE, quindi la nuova gamma Smart Plus Wi-Fi. Prima di tutto però, prima di presentarvi la nuova gamma Wi-Fi e quindi i vantaggi che questa gamma propone, l'obiettivo di questo webinar è quello di darvi anche delle indicazioni del mercato in Italia per quanto riguarda la smart home e la smart lighting, che sono ovviamente totalmente connesse. Effettivamente nell'ultimo anno l'arrivo della pandemia ha radicalmente cambiato le nostre abitudini. Ha posto la casa sempre più al centro delle nostre vite, della nostra attenzione. Dovendo stare molto più tempo in casa, ovviamente si è cercato di rendere quanto più confortevole possibile anche tutto ciò che viene fatto in casa. Quindi fosse anche accendere o spegnere un interruttore e quindi l'illuminazione oppure la televisione, si è cercato di renderlo sempre più facile e intuitivo attraverso per esempio l'utilizzo degli smart speaker, quindi dispositivi con un controllo vocale, oppure anche tramite le applicazioni, oppure tramite dispositivi da remoto, quindi tutto ciò che può servire a rendere molto più facile ed intuitivo e semplificare la casa e la domotica in casa. E' per questo che andiamo a parlare, si è incominciato a parlare sempre più e sempre più nel 2020 di smart home, quindi di una nuova frontiera dell'automazione domestica e soprattutto di smart lighting, smart lighting integrata, quindi di tutto ciò che prevede una interconnessione wireless e un'accensione o uno spegnimento da remoto o in casa tramite lo smart speaker. Come dicevo prima vorrei anche darvi in questo webinar dei dati, dei numeri, quindi comunque delle informazioni che derivano da una ricerca fatta dal Politecnico di Milano proprio sulla smart lighting. Come vedete nel 2020 la smart home in Italia, quindi il mercato della domotica in Italia, che comprende sicurezza, gli smart speaker, gli elettrodomestici, il riscaldamento, la parte di audio, l'illuminazione e altro ancora, vale 500 milioni di euro, 505 milioni di euro, di cui praticamente il 21% è relativa alla vendita degli smart speaker in Italia. Sostanzialmente c'è stato un incremento del 10% della vendita degli smart speaker rispetto all'anno precedente. Questo fa ben capire in che direzione stiamo andando, quindi stiamo andando sempre più verso una direzione di domotica intelligenza, di IoT, quindi di controllo vocale semplice e immediato. Come dicevo prima, l'illuminazione è ovviamente una branca, quindi è un elemento della smart home. L'illuminazione integrata nella casa nel 2020 vale l'8% su 505 milioni di euro, ovvero il 40 milioni di euro, il più 14 rispetto all'anno precedente. Questo significa sostanzialmente che grazie anche agli incentivi come per esempio l'eco bonus 100% o altri incentivi statali, si sta cercando di andare verso quella direzione, una direzione di domotica, di IoT, di casa connessa. Ed è per questo che l'Advance non si è lasciata sfuggire questa opportunità e ha deciso di promuovere e vendere anche degli apparecchi e delle lampade, dell'illuminazione connessi. Come dicevo prima, i due più grandi elementi di controllo per quanto riguarda questo tipo di illuminazione sono il controllo vocale e il controllo tramite applicazione. Il controllo vocale tramite applicazione avviene, come vedete nella parte alta della slide, in tre tipologie di opzioni, seguendo i tre leader di mercato, Apple, Amazon e Google. Sostanzialmente avremo Apple con tutti i propri dispositivi, quindi Hey Siri, tutti i dispositivi collegati all'HomePod. Per quanto riguarda Amazon avremo tutti i dispositivi relativa app collegati ad Alexa, quindi basta pronunciare i nomi di Alexa e ovviamente si attiverà lo speaker. Nel momento in cui invece parliamo di Google avremo tutti gli speaker legati al mondo Google, quindi con un semplice Ok Google andremo ovviamente a definire tutta la parte di apparecchi e gamma di prodotti smart. Ovviamente ogni applicazione, ogni prodotto ha la propria applicazione, quindi la propria applicazione smart e il collegamento può essere immediato e diretto tramite l'applicazione partner. Oppure ogni partner, quindi in questo caso l'Advance, ha deciso di creare la propria applicazione per la gestione dei controlli da remoto o da casa nel momento in cui non si dispone di un dispositivo smart speaker. La gamma di l'Advance. La gamma di l'Advance prevede tre fasce di prodotto. La fascia da consumatore esperto, quindi un consumatore che comunque già utilizza un certo tipo di tecnologia e di questa tecnologia è la tecnologia ZigBee, quindi una tecnologia che sostanzialmente è un pochino più complessa rispetto alle altre. Poi abbiamo un consumatore avanzato, quindi l'Advance propone una gamma intermedia, una gamma Bluetooth, che permette un'illuminazione comunque facile, senza dispositivi che vanno a inframmezzare la connessione, come per esempio quella ZigBee, ed è una connessione più semplice, più diretta, più immediata. Ma quella tra le tre più semplici che adesso andiamo effettivamente a proporre e a far vedere, a spiegare durante questo webinar è la tecnologia Smart Wi-Fi. Tecnologia che, come dicevamo prima, è una tecnologia per i consumatori principianti, quindi per i consumatori che per la prima volta si approcciano ad un mondo smart, ad un mondo domotico, ad un mondo intelligente. Come vediamo da questa slide, la gamma smart è una gamma di facile intuizione, non ha necessità di un gateway, quindi l'applicazione pervede un inserimento direttamente sulla rete Wi-Fi della lampada, non è necessario quindi un dispositivo integrato che permetta la connessione, ha la possibilità di un Wi-Fi Mesh, quindi una connessione rapida, diretta, integrata e supplementare, quindi ogni lampada inserita nella propria connessione fa da ripetitore ed amplificatore per tutte le altre lampade. I controlli, anche in questo caso, come dicevamo prima, sono controllo vocale tramite Smart Speaker, Alexa o Google, e i controlli tramite l'applicazione. L'applicazione è scaricabile da Google Play o Apple Store. L'applicazione permette due cose, la prima è quella di interagire anche col controllo vocale, quindi prima di tutto si installa l'applicazione, poi si vanno, seguendo le varie fasi dell'applicazione, a installare gli apparecchi e successivamente avviene l'integrazione con il proprio assistente vocale. A quel punto si collega il tutto alla rete Wi-Fi e si crea la propria casa domotica. Se vogliamo invece andare a utilizzare solo l'applicazione dell'Advance, abbiamo la possibilità di un controllo da remoto o da qualsiasi parte della stanza, solo con applicazione, è possibile un controllo di dimmerazione, accendimento e spegnimento, cambio colore se si prende una lampada RGB White, ovviamente tutto con un semplice movimento del dito. A livello di range abbiamo tre tipologie di modelli di lampade classiche, quindi le Classic A, Classic B e Classic P, tutte e tre con tre tonalità, quindi tre modalità di dimmerazione, RGB White, Tunable White, i faretti PAR 16, la presa intelligente che permette una connessione intelligente di quegli apparecchi che in realtà non lo sono, quindi se hanno la vecchia pantana della nonna, si vuole rendere smart e utilizzare con lo smart speaker, è possibile farlo grazie alla nostra presa elettrica, strisce RGB White, Tunable White da interno all'esterno, apparecchi di illuminazione, plafone, pannelli e apparecchi da esterno, quindi i floodlight. Vi faccio adesso vedere un breve video che vi permette quindi di capire al meglio quale possa essere l'utilizzo della dell'applicazione e come avviene l'interconnessione con l'applicazione. Poi passeremo alla fase e buona visione. Grazie e buona visione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vediamo adesso direttamente sull'applicazione come va a funzionare. Nel momento in cui la lampadina incomincia a lampeggiare abbiamo la possibilità quindi di schiacciare in alto a destra su più e vedete che immediatamente si va ad evidenziare la lampadina che è stata trovata dalla connessione. Quindi si aggiungerebbe la lampadina, in questo caso la nostra lampada si chiamerà LDV Wi-Fi A100, la aggiungiamo. L'applicazione ci richiede automaticamente una password del nostro Wi-Fi, ovviamente il Wi-Fi deve essere collegato alla rete, quindi in questo momento diamo l'ok, diamo avanti. Ovviamente vediamo come l'aggiunta del dispositivo avviene in circa 5, tra i 5 e i 6 secondi. Quindi l'attivazione l'attivazione è immediata nel momento in cui la lampada è connessa e possiamo rinominarla. Quindi schiacciamo su fine, andiamo in alto a destra dove c'è la pennetta e andiamo a rinominare la lampada come più desideriamo. Quindi per esempio l'andiamo a chiamare cucina. Confermiamo. E arriviamo alla schermata di gestione. Nel momento in cui noi abbiamo la nostra lampada installata, abbiamo la possibilità di comandare la lampada, quindi il controllo della dimmerazione, per esempio, o del tunable white, direttamente sul touchpad del telefono. La dimmerazione si trova nella parte in alto e possiamo quindi andare a diminuire, aumentare la luminosità. Ovviamente possiamo andare a gestire varie tonalità di colori o vari effetti, come più siamo interessati, quindi dal bianco freddo al bianco caldo, quindi 2700 a 6500 gradi Kelvin. Se scorriamo sul touch abbiamo la possibilità anche, ovviamente nel momento in cui andiamo ad acquistare una lampada tunable white, a modificare direttamente il colore, quindi scegliere il colore che più ci interessa. Ovviamente in basso a sinistra possiamo accendere o spegnere la lampada, possiamo controllarla come dicevamo prima. Possiamo andare a creare delle scene, quindi queste sono alcune delle scene già preimpostate, per esempio notte, lettura, lavoro, tempo libero. Ovviamente in base alla tipologia di scena è possibile, oltre a modificarla, è possibile impostare un certo tipo di illuminazione. Per esempio abbiamo la tipologia, la modalità, la scena notturna, oppure la scena lettura, per esempio scegliamo lettura. Andiamo a modificarlo e andiamo ad, per esempio, diminuire la luminosità e vogliamo una luminosità più verso il giallo, quindi una tonalità più calda. L'abbiamo rinominato come scena lettura, nel momento in cui proviamo a uscire ovviamente ci viene confermata la possibilità di salvare, salviamo. E nel momento in cui andremo a richiamare quella scena, ovviamente la lampada si accenderà con quella modalità e con quei toni. Un'altra impostazione fondamentale che può essere utilizzata tramite l'app è quella di andare a gestire il timing di accensione e spegnimento, di immerrazione delle nostre lampade. Quindi attraverso, per esempio, la possibilità del ritmo biologico, nel momento in cui si va ad attivare, è possibile andare a definire e modificare quando si vuole l'accensione o lo spegnimento della lampada, in che giorni vogliamo andare effettivamente ad avere questo tipo di illuminazione e soprattutto appunto che tipo di azione le vogliamo far fare. Nel momento in cui, per esempio, vogliamo invece andare a programmare soltanto un timer, avremo per esempio uno spegnimento o un'accensione dopo X minuti, quindi andiamo a confermare. Ho ancora la possibilità di programmare giorno o orario di accensione e spegnimento, anche in questo caso. Quindi diciamo tutte modalità che possono essere effettuate tramite la nostra applicazione. Adesso vediamo come una volta attivata una lampadina, quindi abbiamo installato la nostra lampadina, possiamo tramite l'applicazione e il nostro telefono, possiamo andare a modificare le temperature di colore, possiamo andare a modificare il colore stesso, quindi da una tonalità rossa a una viola, a una blu, a una verde, andare a modificare l'intensità della luminosità, accendere o spegnere la luce e ovviamente poi comandare le scene, come avevamo visto. Nel momento in cui abbiamo la possibilità di connetterla a un dispositivo di illuminazione intelligente, è possibile anche connetterla quindi a Google o ad Alexa. In questo caso abbiamo preparato un piccolo demo tool che appunto prevede l'utilizzo del nostro Google connesso con le nostre lampade Wi-Fi. Abbiamo rinominato, come avete visto prima, questa lampada cucina. Nel momento in cui ovviamente andiamo a interfacciarci con Google, dobbiamo parlare di questa tipologia di lampada. Quindi, ok Google, accendi cucina. Va bene, accendo cucina. Ok Google, spegni cucina. Ok, spengo cucina. Ok Google, accendi cucina. Ok, accendo cucina. Ok Google, imposta cucina colore blu. Certo, imposto cucina su blu. Vedete che è blu. Ok Google, imposta cucina 50%. Ok, imposto la luminosità di cucina al 50%. Come vedete si possono impostare colori, luminosità, dimerabilità e accensione e spegnimento. Vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima, al prossimo webinar. Grazie.